Ciao cari amiche, eccoci ritrovati a una nuova puntata dedicata alla credibilità. Oggi un pochino in anticipo ma parliamo di San Valentino e vi presento questa nuova creazione, questo quadro che va a riprendere un pochino tutte le varie tecniche. Allora come potete vedere da questo bellissimo quadro abbiamo la cornice fatta in sciabi con la rete che sapete anche nei vari corsi che facciamo nelle fiere la utilizziamo tantissimo, sotto c'è un foglio di carta con l'effetto tappezzeria anticata che è anche questo un altro corso che si può realizzare e poi abbellito con le tre rose realizzate in velluto con la fustella rose. All'interno le scritte love che sono in basso rilievo con gli effetti sempre dedicati allo sciabi. Quindi un purpurì di tecniche per festeggiare il San Valentino. Allora oggi cominciamo a preparare le scritte all'interno di questo quadro, poi tutte le altre cosine che servono per comporre questa decorazione le potete scoprire nei vari video che abbiamo già fatto e potete rivedere sul canale, il mio sito creareinsieme.it o sul canale YouTube Laravella Video. Allora iniziamo subito con la lettera. Iniziamo con tagliare la nostra letterina su questo cartoncino abbastanza grosso come potete vedere che può essere anche cartoncino di recupero. Quindi andiamo a mettere all'interno della nostra fustella e andiamo a tagliare la letterina in questo modo. Ecco qui. Tagliamo, come potete vedere, taglia per precisamente. È un pochino duro perché logicamente abbiamo uno spessore bello sostenuto e abbiamo tagliato la nostra lettera L. Come potete vedere è semplicissima. Questo qua mantenetelo ragazzi, non buttiamo via assolutamente nulla. Quindi adesso vado a spostare la B-Shot perché non mi serve più e velocemente vado a colorare con sempre il... Io uso il mio colore logicamente perché quello ho, però insomma questo è cartoncino quindi potete utilizzare qualsiasi colore o tonalità. Io uso il Tortora e la caratteristica anche del colore per la decorazione del mobile la mia ciolche è completamente opaco. Mi raccomando di fare bene anche questi bordini. Quindi in questo modo andiamo a fare tutta la colorazione in questo modo qua. Ecco qua. Perfetto. Questo lo lasciamo asciugare, pennello in acqua e andiamo a prendere le altre letterine che io ho già fatto e ho già colorato e andiamo a creare, proprio le andiamo a stampare. Io adesso utilizzo questa altra macchinetta che serve per fare le texture. Allora prendiamo in questo caso questo stampo ce ne sono tantissimi in commercio e vado a posizionare la parte colorata della mia lettera nella parte dove sento il rilievo più alto in questo modo qua e lo vado a inserire all'interno della macchinetta. Allora anche la macchina che utilizzavo prima fa i rilievi però bisogna stare attenti a vedere i fogli che si devono inserire sotto quindi siccome ce ne sono diverse ho preferito utilizzare questa che è più comoda e vado a girare la mia manopolina in questo modo qua è logicamente un pochino duro perché lo spessore del cartoncino che sto utilizzando è veramente alto ecco qua vedete adesso che è passata è molto più morbida andiamo ad aprire e guardiamo il risultato della nostra allora chiedo un bel zoom sulla nostra lettera vedete com'è diventa cioè com'è bella è proprio bellissima adesso velocemente andiamo a fare le altre due poi le andremo a con il bianco sempre shabby le andremo a fare l'effetto shabby con la tecnica dei brush sempre a secco quindi le varie tecniche che impariamo nei vari video poi servono per fare anche tante altre cose esempio l'effetto tappezzeria che avete visto prima sotto al quadro realmente quelli sono i fogli che io utilizzo per fare la rosa love di carta ma che ho sempre utilizzato per fare le prove soprattutto per le antine degli armadietti o dei comodini per vedere come possono venire insomma quindi quando poi sono realizzate possono essere utilizzate per fare altre cose come per esempio il retro del nostro quadro ecco l'alfabeto è sicuramente una delle fustelle più importanti perché ti permette poi di fare quello che vuoi sono anche belle grandicelle e quindi ti permette veramente di poter scrivere poter fare quello che si desidera e vado ecco qua a terminare la L la dobbiamo lasciare un attimino ferma perché è ancora bagnata e la andremo a recuperare in un secondo momento allora fatto questo prendo le mie letterine prendo la chalk bianca il pennello asciutto quello un pochino più secco come potete vedere bagno pulisco bene il pennello in questo modo e vado a colorare letterina per letterina la cera deposita sulla base depositandosi sulla base impedisce al colore stesso di attaccarsi e quindi creo proprio questo effetto di sbiancatura ecco qua che a me piace tantissimo poi logicamente io ho usato il tortore e il bianco perché sono comunque i colori che piacciono di più sono anche neutri e allo stesso tempo ti permettono di creare dei belli effetti sicuramente sotto avere sotto la carta rossa effetto tappezzeria dà un ottimo risultato ecco qui e andiamo a terminare con questo quindi la prima cosa che si fa è l'alfabeto adesso andiamo a vedere ecco qui perfetto lo facciamo asciugare per bene nel momento in cui è asciutto andremo a fare dei piccoli buchini io ho questo simpatico attrezzetto però potete farlo anche con un ago abbastanza grosso allora faremo dei fori sottili sottili in questo punto come potete vedere nelle varie letterine nel centro qua la V come nella E magari ne facciamo due più o meno alla stessa altezza perché con del filo trasparente poi che è questo sono andata a legare direttamente il proprio filo trasparente sono andata a legare la letterina sulla nostra rete allora adesso chiedo alla regia di andare un attimo sul sul quadro che così lo vediamo un attimo allora come potete vedere le lettere sono attaccate alla rete con il nostro filo di nylon la rete anche lei è stata colorata di bianco e sotto abbiamo l'effetto tappezzeria l'effetto tappezzeria sono partita da questo foglio ecco qua vengo qua siamo qui perfetto sono partita da questo foglio che è il foglio per la rosa love che abbiamo acquerellato come potete vedere già con delle sfumature e poi è stato fatto lo stencil logicamente poi abbiamo applicato la cera neutra e la cera anticante quindi ti diventa proprio una quasi un tessuto quando quando si tocca questo questo tessuto qua per quanto riguarda le rose invece è stato utilizzato questo tipo di velluto e la fustella rose che avete visto potete vedere tutti i vari video per poterla comporre l'ultimo particolare poi va tutto con la colla a caldo incollato e così via è il nastrino per fare il nastrino delle bellissime roselline prendo invece di mettere delle foglioline che non mi piacciono prendo questo tulle il nastrino di tulle taglio un pezzettino di di nastro in questo modo ecco qua poi prendo faccio un'anella una seconda anella in questo modo e una terza anella in questo modo qua e vado a tagliare così salgo questa come potete vedere e anche questa quindi abbiamo le tre anelle con le due codine il pezzettino di nastro che mi avanza lo giro in questo modo qua e vado a così essendo da sola devo lavorare con le manine quindi così vedete l'ho tenuto fermo è tutto bello fermo questa parte qui vado a chiudere con un nodino uno o due nodini allora ne faccio tre che vado a inserire tra una rosa e l'altra come se fossero delle foglioline io vi ricordo sempre care amica che prima di acquistare qualunque cosa guardate in casa quello che avete da recuperare da riciclare da rifare poi sapete che le cose che utilizzo io le potete trovare sul mio sito creareinsieme.it o mi potete contattare ma prima cercate di recuperare tutto quello che potete recuperare termino questa questa puntata sempre sulla mia la composizione di questo quadretto love che sarà uno dei corsi che potremo fare nelle varie fiere spero che anche questa puntata vi sia piaciuta e vi saluto alla prossima puntata ciao ciao ciao